Padre Palmiro Prisutto, parroco della Chiesa Madre, arciprete di Auguste, è al centro in questo momento dell'attenzione mediatica e non solo, al centro dell'attenzione politica, attenzione che è arrivata fino a Roma, fino a Bruxelles. A Roma perché la sua lettera, la sua protesta diretta al Presidente della Repubblica Napolitana ha avuto un riscontro e anche al Parlamento Europeo e a Bruxelles perché ci sono deputati europei che si stanno preoccupando finalmente, potremmo dire, di queste proteste che Padre Prisutto organizza periodicamente, proteste che si manifestano in vari modi, attraverso i video, attraverso i libri, attraverso le lettere indirizzate al Presidente della Repubblica. Una lettera in cui si dà del tuo a Napolitano con una certa leggerezza, però mi pare Napolitano il Presidente, tramite il Prefetto Gradone di Siracusa, ha risposto. Quella è una videolettra ufficiale pubblicata su Youtube, ma non è una lettera che è stata inviata. Ma c'è una lettera però per iscritto formale. Certo. Bene. E allora finalmente il Presidente ha dato perlomeno una risposta attraverso seppur il Prefetto di Siracusa, ma ha dato una risposta. Che tipo di risposta? Ecco, i nostri ascoltatori vorrebbero sapere. Possiamo dire che tipo di non risposta. Ah, ecco. Ecco. Perché quando ci si nasconde dietro quella frasetta, per quanto riguarda il problema da lei suscitato, abbiamo interessato i competenti organi di governo, questo l'ha detto anche Cossiga, l'ha detto Ciampi, l'ha detto Scalfaro, lo ripete lui, ma se i risultati da 30 anni a questa parte sono questi, vuol dire che i competenti organi di governo sono incompetenti. Certo, giocando sulle parole, non si interessano nessun altro. E' una frase però, quella formale, ufficiale, dietro cui si trincerono i Presidenti della Repubblica, anche perché il loro potere non è un potere esecutivo appunto. E allora perché rivolgersi al Presidente della Repubblica e non per esempio all'attuale Primo Ministro? Perché il Primo Ministro con tutte quelle cose che in questo momento sta facendo o non facendo non ha tempo per noi, questo è chiaro. Eppure a Siracusa è venuto recentemente, anzi appena insediato, sì. Beh, quando si tratta di fare le passarelle tutti sono bravi a venire. Quando si tratta di dare la soluzione a grossi problemi preferiscono ignorarli. Questo di Augusta, Siracusa, Priolo e Medili, Quadrilatro o Triangolo, cosiddetto della morte, è un problema annoso e difficilmente risolvibile. Anche se, dico, ci sono queste proteste che sono anche in qualche modo proprio amplificate dai mezzi di comunicazione. Abbiamo recentemente visto anche un servizio sulla Sette in cui lo stesso Padre Prisutto e altri personaggi di Augusta, Rega Ambiente e altri, anche non nostro che un cittadino ma l'altro di cancro, avete testimoniato. Ecco, questi video su scala nazionale hanno in qualche modo suscitato, dicevamo, l'interesse del deputato europeo Corrao. E questo, da punto di vista pratico, concreto, che cosa significa? Cosa può significare allora? Significa che siamo penetrati all'interno dei circuiti dell'informazione. Prima non c'era allora questo? O perlomeno, magari si è tentato ma alla fine siamo stati ricacciati indietro perché ci sono altre notizie, sicuramente meno interessanti e meno importanti della nostra, a cui abbiamo dato un maggiore risalto. Quindi, certo, quando si parla di strage ad Augusta per quanto riguarda le morti per cancro, allora dobbiamo dire che il problema è estremamente serio e grave. Perché qui sono in atto delle palese violazioni degli articoli della Costituzione, come per esempio l'articolo 32. Qui lo Stato non solo non tutela la salute dei cittadini, ma addirittura con certe scelte si schiera contro i cittadini dalla parte degli inquinatori e quindi praticamente noi abbiamo due nemici in questo momento. Da un lato le multinazionali del petrolio, dall'altro lato le istituzioni dello Stato che praticamente sono incapaci o non vogliono assolutamente prendere in mano la dolorosa questione di Augusta. Eppure ci sono alcune leggi precise, la legge Merli per esempio, che veniva invocata dall'ora Pretore Condorelli, che è stato perlomeno un rappresentante dello Stato, un baluardo negli anni Ottanta. Però, come sappiamo bene anche in altre vicende, questa legge poi è stata superata di fatto perché hanno elevato i limiti di tollerabilità e quindi praticamente il problema si ripropone. ma il problema è che l'inguinante, se fa male già in una certa percentuale, anche se tu alzi la soglia, il malo lo fa lo stesso. Ecco, ormai è sicuro. Avvelenati è ammazzato a norma di legge. Ammazzato a norma di legge e questo potrebbe essere anche il titolo del nostro servizio ed è un fatto autentico perché padre Presutto è stato anche attaccato via Facebook da qualche il personaggio che forse vuole mettersi in politica o vuole scendere in politica perché ha detto che padre Presutto fa male o perlomeno forse fa male essere così insistente a dare di questo, di Augusto, un'immagine così negativa. Ma devo dire che è la pura verità perché io ho parlato personalmente con un lavoratore, anzi un quadro dirigente all'interno dell'industria il quale mi ha detto e non vuole essere citato e mi ha detto che in effetti padre Presutto ha ragione perché ci sono le microparticelle, l'amianto per esempio che è stato coperto per tanti anni eppure gli aghi anche dalla ceramica, tutti questi toccano i polmoni, quindi c'è una strage silenziosa. Ma allora, visto che non abbiamo più un baluardo della giustizia, non solo non abbiamo Condorelli, non abbiamo nemmeno più una difesa qui. La mia azione ha una finalità precisa. Se noi riusciremo a far arrivare il Presidente della Repubblica, d'Augusta, il Presidente della Repubblica automaticamente porterà dietro di sé tutta la stampa nazionale che conta e probabilmente anche fuori dalla nazione. Per cui metteremo all'attenzione di tutti il nostro problema. Noi le richieste le avanzeremo a Napolitano perché si faccia carico, vale a dire noi lo investeremo del problema. Sarà lui poi nelle sede opportune a chiamare gli interessati che a noi solitamente non rispondono. Ma perché investiremo? Non è stato già investito. Avete ancora intenzione? Sì, perché sto preparando un discorso da fare in presenza del Presidente della Repubblica. Ma quando questo? C'è stato un invito formale ad andare da lui? No, no. Quando lui verrà qui. Perché noi insisteremo a farlo venire qui. Perché fino a quando nessuno verrà a vedere con i propri occhi lo scembio che c'è attorno al porto di Augusta questo non prenderanno mai consapevolezza di quello che è il nostro dramma. Ma non è un po' illusorio, chimerico in questo momento pensare che Napolitano venga qua se non c'è un fatto clamoroso dal punto di vista mediatico? Perché la strage è silenziosa e forse non fa effetto. Ci vuole un altro terremoto. No, io penso che già il tabulato che ora noi rimanderemo aggiornato e soprattutto amplificato a un certo punto di fronte a quelle cifre non si può rimanere indifferenti. Il tabulato dei morti per cancro? Il tabulato dei morti per cancro. Sono già 557 quelli ufficialmente censiti. Quindi il numero sta crescendo. La popolazione sta collaborando sta elencando praticamente sta uscendo dallo scoperto cosa che ad Augusta prima non c'era. Se c'è l'acquiescenza, ha il timore, il ricatto occupazionale dicevamo, abbiamo anche pubblicato articoli Hanno fatto già una scelta non si stanno piegando il ricatto occupazionale stanno parlando, stanno denunciando e quindi prima o poi a un certo punto questo problema verrà fuori in tutta la sua drammaticità. Ma già è fortemente drammatico. Per noi sì ma per chi non lo vive certamente il problema non esiste. Dobbiamo pensare che tutti lo debbano vivere un giorno che tutti dobbiamo vivere questo dramma così tragico. Ma ad Augusta tutte le famiglie lo vivono anche perché diciamo quella lettera che i cittadini stanno spedendo sono interi nuclei familiari che stanno mandando per dire il problema non tocca la singola persona il problema tocca le famiglie e una famiglia a un certo punto ha un morto di cancro soprattutto se è giovane come età a un certo punto sono tragedie che non possono non scuotere le coscienze. Allora, padre Piusutto l'abbiamo ricordato in un altro servizio ha inventato il sito facebook segnalato alla buzzer questo sito cosa ha portato? Di nuovo il fatto che ci sono sempre gli stessi sversamenti il sabato, la domenica anche il venerdì sera? Soprattutto la notte intorno alle due e mezzo le tre, le quattro vado a dire quando siamo nel cuore della notte quando la gente è nel sonno più pieno questi praticamente hanno capito che in quel momento la gente non percepisce diciamo e magari non reagisce quindi è una maliziosità possiamo dire diabolica quella dell'area industriale nei nostri confronti. Io vorrei ricordare a questo punto ancora una volta Condorelli mi dispiace dirlo perché mi ha fatto storico lui quando sentiva la buzza andava con il suo figlio carabiniere come uno sceriffo moderno andava a bussare e a chiedere conto e ragione alle varie industrie ma oggi chi ci può difendere da questo continuo sversamento da questa strage così appunto silenziosa chi ci difende oltre a padre Prisutto se vogliamo usare questo come paladino di questa battaglia L'idea di farlo segnalare ai cittadini attraverso questa pagina di Facebook è importante perché noi così stiamo facendo un diario noi possiamo alla fine confrontare i nostri dati quelli raccolti così diciamo con il nostro naso il nostro olfatto non è che il nostro olfatto non funzioni forse sono le centraline dell'ARPA del CIPA che non funzionano questo l'abbiamo detto o le facciamo funzionare in un'altra occasione l'abbiamo detto allora a questo punto sarà utile fare un riscontro vale a dire se in un certo momento ad Augusta è stata segnalata un particolare tipo di puzza di natura industriale certamente le centraline dovrebbero sì ma voglio dire la domanda è sempre quella che si pone il cittadino che ci sta seguendo chi deve prendere i provvedimenti giudiziari amministrativi chi deve reagire e soprattutto a quali industrie perché il polo petrolchimico è grande qua perché le industrie poi scaricano fanno scarico a barile questo è uno delle loro armi vincente vuole a dire non si capisce chi sia il colpevole per cui ognuno accusa l'altro ognuno deve essere a posto però la gente continua a soffrire ad ammalarsi dobbiamo ora qui non abbiamo più un magistrato a cui rivolgerci quindi nemmeno il procuratore ma non c'è neanche un sindaco questo è un altro discorso ancora questo certo allora la gente per il resto abbiamo avuto sindaci che hanno consentito possiamo dire per il mio ritmo storico hanno consentito che il campo sportivo di allora fosse coperto dalla pirete l'abbiamo avuto e storicamente è così ma i cittadini possono anche fare un'altra cosa importantissima vale a dire io lo dicevo una signora che si lamentava mi diceva questo l'altro ieri mi sono svegliato perché la bambina di un anno piangeva e mi sono svegliato alle tre e mezzo a un certo punto tutto il giorno porta e finestra perché praticamente non si respirava più quindi anche i bambini percepiscono già l'inguinamento e lo segnalano però ho detto a questa signora ma mi dico una cosa ma mentre hai chiuso porta e finestra per caso una telefonata di carabinieri alla prefettura all'arpa a qualcuno no bene che cosa succede se non ci sono le denunce il reato non c'è allora un metodo semplicissimo per fare le denunce è questo vale a dire ma quando saranno disponibili a farle eventualmente alle tre e mezzo io mi alzo vado al pronto soccorso dell'ospedale mi faccio fare il referto mi bruciano gli occhi mi brucia la gola non posso respirare e poi quel referto può andare a finire sul tavolo di un magistrato il problema è che alle tre e mezzo di notte alle quattro la gente di Augusta non ha si mette a dormire la capacità di reagire siamo anestetizzati questo è vero però c'è anche da dire che forse i carabinieri rispondono non è in compito nostro lo dicono anche altre volte per altre cose o la polizia probabilmente diranno questo probabilmente se dicessero stanno commettendo un omicidio i carabinieri che farebbero? e questo cos'è? la cosa complessa a proposito di omicidio abbiamo noi pubblicato sul gruppo facebook di Rassegni Metropolitano una testimonianza di un malato di cancro caro Giorgio attenzione ti faccio un esempio serio vedi quando un'azienda del polo petrolchimico ha un'avaria agli impianti e mette tutte in candela per legge deve fare una cosa segnalare alla prefettura all'ARPA che hanno quella avaria e mandano il fax ma dimmi una cosa dopo che mandano il fax hanno messo la coscienza a posto perché oltre ad avvisare chi dovrebbe in un certo punto intervenire dovrebbero avvisare la popolazione state attenti che è stata immessa in atmosfera una particolare sostanza avete la maschera di gas a casa usate il filtro F2 F12 per dire ecco loro avvisano la prefettura avvisano l'ARPA ma i cittadini non vengono avvisati ecco a proposito di cittadini che soffrono appunto stavo dicendo prima abbiamo pubblicato la testimonianza di un su gruppo facebook di Rassegna Metropolitana una testimonianza drammatica di un ammalato di cancro il quale si confessa e in genere i malattie di cancro vanno a Parigi vanno a Marsiglia vanno altrove e qui da noi qual è la situazione che poi anche succede anche questo un altro paradosso anche questo tutto nostro noi abbiamo queste malattie queste incidenze però poi non abbiamo le cure adatte o perlomeno non ci sono i centri di eccellenza che ci sono altrove in Francia per esempio ma qui non abbiamo neanche i politici che possono seguire certe strade Augusta da questo punto di vista brilla per essere sottomessa a Siracusa e ad altre ovviamente si arriva a puntare che dice facciamo il centro oncologico d'eccellenza ad Avola ma ad Avola non è Augusta cioè vale a dire un centro di mori proprio per il materiale umano che deve trattare al di fuori di Augusta Priolo e Mellito non dovrebbe esistere questo debba essere del polo d'eccellenza e invece praticamente vediamo che i vari politici si portano diciamo a casa loro le cose per fare bella figura e poi diventa anche il servito dei devoti per le elezioni future allora adesso dobbiamo ancora vediamo qualche altra domandiera che riguarda le persone allora devono denunciare devono protestare anche ufficialmente con gli organi di polizia ma poi c'è anche chi deve preoccuparsi cioè il magistrato in questo momento abbiamo il procuratore Giordano che mi pare sia stato in qualche modo sensibilizzato da queste proteste avete avuto notizie? Attualmente no quindi in questo momento c'è questo silenzio scusami ma visto che poco fa hai fatto il paragone con l'omicidio ecco c'è un omicidio sottile non è clamoroso non è con il sangue che si vede ma ecco non si potrebbe fare una denuncia per omicidio colposo formale alla procura plurimo strage per esempio una cosa del genere si può configurare avete studiato in qualche modo questo tipo di denuncia formale? C'è un gruppo di studio formato da alcune persone di Augusta, Gella e Milazzo che sta lavorando a questo progetto e noi avremo a questo riguardo un incontro ad Augusta il prossimo mese Ah e questa è una notizia interessante cioè un incontro a ottobre? Sì con alcuni consulenti legali per vedere un pochettino il da farsi cioè anziché essere soli a protestare Augusta per i fatti suoi Gella per i fatti su Milazzo per i fatti noi vorremmo fare un'azione coordinata quindi più incisiva più forte per denunciare praticamente Quindi i tre poli industriali della Sicilia del petrolchimico che si coordineranno e quindi agirete di concerto anche sul piano formale giudiziario almeno ma qui vi ridurete qui ad Augusta ma saremo un incontro pubblico una cosa intanto privata pensiamo pensiamo di invitare tutte quelle persone che nel gruppo a segnale alla puzza hanno dato la loro adesione e hanno lamentato questo genere di sversamento in atmosfera quindi noi a queste persone le inviteremo senz'altro poi vediamo perché ci vorrebbe anche un locale in grado di poter ospitare una quantità di persone considerevole posso suggerire la scuola dell'industriale per esempio là c'è una bella aula magna vedremo detto questo continuerà sempre la solita diciamo solita da cinque quanti mesi da maggio mi pare celebrazione del 28 del mese di ogni mese sì non solo ma ora che se riaprano le scuole coinvolgeremo anche gli studenti il corpo docente perché di fronte a questa vicenda capisco che sarà inevitabile creare una frattura perché nella popolazione interna della popolazione sì perché il diritto alla salute di alcuni cozza contro il diritto al lavoro di altri però non è detto che io per mantenere il posto del lavoro che fa morire devo fare silenzio a questo punto noi non cerchiamo lo scontro sociale però è inevitabile lo scontro sociale nasce dal mancato intervento delle istituzioni ma qualcuno potrebbe domandarsi a questo punto che vuole vuole che si chiudano le industrie no per carità loro non devono chiudere ancora dovranno chiudere dopo aver bonificato sarebbe troppo comodo vuole a dire questi hanno lucrato per decenni sul nostro territorio ci hanno massacrato il territorio ci hanno rubato il mare ci hanno rubato tutto il futuro a un certo punto che fa se ne vorrebbero andare e chi lo impedisce per esempio ecco questo è una delle cose che devo dire al Presidente della Repubblica vogliamo uno Stato che sia forte con chi ha fatto il prepotente per decenni e che dia ragione ai deboli che nei loro confronti praticamente non sono stati mai difesi ma se chiudono la gente doveva lavorare ecco il solito ricatto occupazionale la bonifica darebbe lavoro per molto più tempo solo che la bonifica che la deve pagare ecco l'altro punto gli inquinati che devono essere beffati due volte qui praticamente dal punto di vista morale dal punto di vista etico ci sono molte cose che non vanno quando si sentono certe dichiarazioni da parte di certi esponenti dall'area industriale o comproindustria eccetera comprendiamo che loro si fanno forti perché hanno i soldi con cui possono ricattare la gente il cittadino semplice deve privarsi per esempio quando si farà il ricorso dovremmo non necessariamente autodassarci vale a dire toglieremo io non ce n'ho figli ma un padre di famiglia che vuole fare questa azione deve togliere il pane ai suoi figli per garantirgli la salute ed è una vergogna apposito di vergogna noi abbiamo l'esempio del porto di Augusta che vergognosamente è ancora in certe condizioni era stato detto di bonificare questo porto era stato detto all'industria di pagare la bonifica almeno parzialmente però non è stato fatto niente perché parzialmente? almeno questo era dovrò fare un compromesso hanno stanziato un'elemosina infatti per ma qualcuno ha preferito rubare ai poveri cioè a noi quelle elemosine che ci avevano fatto che fine ha fatto? è andata a finire ad altri e qui ecco la classe politica che rappresenta Augusta che fine ha fatto?